Benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto a tutti voi, carissimi amici radioascoltatori, anche a chi ci sta guardando attraverso la nostra pagina ufficiale Facebook, attraverso il nostro canale YouTube. Dai nostri studi in via Cavorteria Belluno, Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura di oggi dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Parliamo del gazzettino del Corriere delle Alpi, ma come sempre prima di iniziare leggiamo assieme la frase del giorno per quanto riguarda la giornata di oggi, ovvero di lunedì 16 marzo 2020. Agisci come se quel che fai facesse la differenza perché la fa William James. E con questa citazione addentriamoci nella lettura di oggi, della lettura dei quotidiani bellunesi. Diamo subito uno sguardo ai titoli delle due prime pagine. Parliamo come sempre del gazzettino e del Corriere delle Alpi. Incominciamo con il Corriere delle Alpi. Ecco la notizia in prima pagina. Ospedale, il piano d'emergenza, morti due pazienti bellunesi. Ovviamente si parla ancora di coronavirus. Al San Martino un Covid hospital, posti letto triplicati tra rianimazione, terapia intensiva e pneumologia. La foto di copertina invece è dedicata alla situazione bellunese. Una domenica blindata, strade deserte e passeggiate per pochi. Ieri mattina code solo in edicola per l'acquisto del quotidiano. Se ne vendono più che nei periodi normali e in farmacia per le medicine necessarie al fabbisogno della famiglia. Deserti, supermercati e negozi di frutta e verdura con la scusa che la spesa era stata fatta al giorno prima e poco frequentata alle strade, sempre presidiate dalle forze di polizia. In pochi si sono avventurati anche lungo le piste ciclabili per una corsetta o anche solo una passeggiata. In questa fotografia vediamo il ponte degli Alpini, uno dei ponti più trafficati del capoluogo belunese. Praticamente deserto, anzi completamente deserto. Tant'è vero che c'è una persona che passeggia al posto delle auto. Altri richiami dalla prima pagina. Ultimatum dei sindacati, sicurezza sul lavoro, scioperiamo subito. Le indicazioni sono chiare. Questa mattina alle 5 i dipendenti si sono dati appuntamento davanti ai cancelli di tutte le fabbriche metalmeccaniche belunesi. E chiederanno agli imprenditori se hanno provveduto a rifornire tutti i loro dipendenti di mascherine. Rimpatrio complicato, Giorgia in viaggio verso l'Italia, il ministro di Inca segue il caso. La 21enne belunese è partita da Barcellona con un treno, con BlaBlaCar si è diretta verso Nizza. E ieri l'ha messa online il Vescovo Una Candela alla finestra contro il virus. L'iniziativa di Monsignor Marangoni che lancia per giovedì alle 21, mentre tutta Italia si riunirà in preghiera per il rosario. Questi i richiami che troviamo nella prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. Ovviamente anche in questo caso la notizia è identica. Parliamo delle tre vittime belunese a causa del coronavirus. Virus, i morti in provincia sono tre. Dopo il primo decesso della 91enne di Sovramonte ci sono altre due vittime. A Belluno un 85enne e a Feltri un 84enne in provincia è salito a quota 513 il numero delle persone costrette a rimanere barricate in casa in isolamento fiduciario. Completamente diversa invece la foto di copertina del Gazzettino rispetto a quella del Corriere. In questo caso spazio a Luxottica chiude Luxottica operai impiegati a casa tre giorni. Per il gruppo Luxottica tutto chiuso. Da oggi le fabbriche del Colosso dell'Occhiale sono blindate fino a mercoledì. Altri richiami. Belluno, sindaci in trincea come sceriffi del territorio. La fascia tricolore ai tempi del coronavirus pesa come una sciarpa di piombo. Per i sindaci della provincia impegni gravosi e lavoro 24 ore al giorno. Valdizoldo, appello ai gelatai, ora rimanete in Germania. Cari concittadini, restate in Germania. Il sindaco di Valdizoldo dei Pellegrini lancia l'appello ai gelatieri perché non valichino per motivi sanitari la frontiera. Grazie del Vescovo ai camici bianchi. Ringraziamento dal pulpito ieri del Vescovo Renato Marangoni a chi lavora negli ospedali affrontando l'emergenza coronavirus. Belluno controllato 832 persone e 43 le denunce. E ancora campioni e neogenitori all'epoca dell'epidemia. La normale routine di ognuno in questo periodo è sconvolta per le donne in gravidanza. L'emergenza coronavirus ha aggiunto ansia a una condizione già di per sé tutta particolare. E per chi poi ha partorito sta per farlo. Tutto viene moltiplicato all'ennesima potenza. Gabriele Denarda e Federica Dari, ex azzurri di atletica, hanno vissuto tutto questo sulla propria pelle perché 15 giorni fa è nato il loro secondo figlio, Luca. Ciclismo, la scelta di Lara Viecili, non torna a casa per non rischiare di mettere in pericolo. La mia famiglia, costretta a scegliere, Lara Viecili ha deciso di proteggere famiglia e affetti stando lontano da casa. La Fonzasina, ciclista professionista in un team tedesco, ha infatti scelto di restare in ritiro in Austria. Questi quindi i richiami che troviamo nella prima pagina del Gazzettino di Belluno. Torneremo per la lettura del suo interno. Adesso passiamo al Corriere delle Alpe ed entriamoci all'interno. Notizie che riguardano anche il Paese. Decreto cura Italia. Da 25 miliardi in aprile ne arriverà un altro. Nella notte il Via Libera ha la complessa norma. Forza Italia avverta. E ancora per quanto riguarda l'allarme globale dovuto a coronavirus, la sanità, pressing dei governatori, zaia, rischio, collasso da nord a sud, appelli per mezzi e personale, pace, fontana, governo, Sicilia e Calabria chiedono i soldati, Val d'Aosta chiusa. E sempre per quanto riguarda la sanità, in un giorno 368 morti ma meno pazienti in terapia intensiva, record di vittime, picco dei contagi non calcolabile, la Lombardia vuole creare una rianimazione da 600 posti. E sempre per quanto riguarda il fronte sanitario, ospedali riaperti, tamponi per strada, zaia restati in casa o sarà il coprifuoco, lanciato un piano straordinario di aumento dei posti letto in caso di emergenza, 9 covid hospital riservati ai malati. E diamo uno sguardo a questo piano di emergenza coronavirus che riguarda la regione Veneto e quindi ovviamente anche la provincia di Belluno, posti ospedalieri aggiuntivi al covid-19. Diamo subito uno sguardo alla situazione per la provincia di Belluno, alla ospedale di Belluno, posti letto attuali 9, terapia intensiva aggiuntivi 6, pneumologia semi-intensiva 10, malattia infettiva 40 posti. In totale, a livello regionale, i posti letto attuali di terapia intensiva sono 60, terapia intensiva aggiuntivi 206, pneumologia semi-intensiva 212, malattie infettive 1.327. E il Veneto ha sfondato quota 2.200, oltre a 259 contagi e 6 morti. Tra i positivi un bambino di due anni visitato all'ospedale di Mestre, i guariti dall'inizio dell'epidemia sono 123. E queste sono le cifre, casi SARS-CoV-2 positivi, dati aggiornati al 15 marzo alle ore 17. Vediamo subito che a Padova il totale era di 592, con più 54. Cluster domiciliari comuni di Vo 82, con un aumento pari a 0. Treviso 425, con più 33. Venezia 328, con più 32. Verona 364, con più 83. Vicenza 253, con più 33. Belluno 82, con più 4. In questo caso ecco la situazione per quanto riguarda il nostro territorio. Rovigo 27, con un aumento pari a 0. Domicilio fuori Veneto 32, con un aumento pari a 0. Assegnazioni in corso 61, con un aumento pari a 13. In totale quindi a livello Veneto abbiamo 2.246 casi, con un aumento nelle ultime 24 ore di 252 casi. Diamo uno sguardo alla situazione invece dei ricoverati in provincia di Belluno. Eccoci qui, suddiviso tra Belluno e Feltre. I pazienti in area non critica sono 17. La variazione del numero dei casi più 2. Pazienti in terapia intensiva 2. Variazione del numero dei casi più 1. Dimessi dal 21 febbraio sono 2. Decessi dal 21 febbraio sono 2. Il dato è aggiornato a ieri sera con il terzo. Variazione del numero dei deceduti, appunto eccolo qua, più 1. Quindi siamo in totale a quota 3. Ospedale di Feltre invece pazienti in area non critica sono 9. Variazione del numero dei casi più 3. Pazienti in terapia intensiva 0. Variazione del numero dei casi 0 e via. Di seguito non ci sono dati aggiornati per quanto riguarda la situazione dell'ospedale di Feltre. E sempre in merito al coronavirus. Allarme sanitaria nel bellunese. Morti due anziani positivi al coronavirus. Erano ricoverati a Belluno e a Feltre. Angelo Turrine è deceduto nelle malattie infettive del San Martino. Una 84enne nell'area Covid-19 del Santa Maria del Prato. I positivi aumentano ma con un trend minore sono 1.562 i tamponi effettuati in provincia per la ricerca del Covid-19. Mentre risultano 513 le persone residenti nell'area USA numero 1 dolomiti in isolamento domiciliare fiduciario e sorveglianza attiva. Casa Sant'Antonio abate di Arano di Piave. Tamponi per tutti e un'extra in busta paga per i lavoratori. Gli anziani positivi sono tutti asintomatici. In arrivo una lavatrice all'ozono per le divise. E a San Martino un Covid hospital triplicati i posti letto intensivi. In arrivo 56 nuove postazioni tra pneumologia, terapia intensiva e malattie infettive. Allo stato attuale erano 23. In rianimazione ne sono stati aggiunti altri 6, 40 in malattie infettive. E per quanto riguarda invece la situazione delle fabbriche italiane riferite all'allarme coronavirus, baretta la produzione sarà limitata selezionando le imprese essenziali. Il sottosegretario veneziano all'economia prevede una stretta sul versante industriale fondamentale a contrastare la diffusione del contagio riducendo i contatti sui luoghi di lavoro. E a proposito di imprese belunesi, Telios riapre dopo la sanificazione. La salute viene prima di tutto. Il CEO Giovanni Zoppas è chiaro, pronti a ricorrere alla cassa integrazione, ma il tessuto Italia è forte. Ci riprenderemo. Questo è il pensiero dell'amministratore delegato Zoppas. Se ancora stiamo già pensando al lancio di Dior, avremo bisogno di nuove assunzioni. E Luxotti che invece chiude l'Italia da oggi a mercoledì. 8 stabilimenti bloccati. Il polo logistico di sedico rimarrà fermo solo oggi, accordo con i sindacati su nuove misure di prevenzione a cassa integrazione. La sicurezza seguirà il protocollo firmato dal governo e le parti sociali. Altre notizie. Ristorazione firma. Stop alla Serbosco. Sì, di almeno due settimane. Taibon Pramaur ha deciso a casa una settimana. Pramaur Blackfin di Taibon a Gordino. Chiude l'attività per tutta la prossima settimana. Lo ha comunicato Nicola Deldin, amministratore delegato dell'azienda, produttrice di occhiali in titanio, con sede in via Nogarola a Taibon a Gordino. Altre aziende. Gatto. Attività al minimo con tutte le difese necessarie. Siamo a domeggio di cadore. La filiare cinese è già ripartita ed è operativa al 100%. Non ancora i fornitori. E' sempre in merito l'economia bellunese. Come conseguenza del coronavirus, i sindacati bellunesi lanciano l'ultimatum. Senza sicurezza oggi sarà sciopero. Fium, Fium e Cisle chiamano a raccolta. RSU e lavoratori tornate a casa se non si rispettano DPCM e protocollo. L'invito è meglio mettersi in regola piuttosto che chiudere in caso di contagio. Questo è l'invito dei sindacati bellunesi. Ed ecco quindi anche il pensiero di Confindustria Belluno, direttamente dalla sua presidente Lorraine Berton. Siamo contenti di poter scegliere. Messe in atto le misure per dare garanzia agli operai. Ora le aziende hanno facoltà di decidere se andare avanti o fare uno stop. Dal mondo religioso, il viscovo, una candela alla finestra. Marangoni lancia l'idea per giovedì sera, mentre in tutta Italia ci sarà la recita del rosario. Funzioni religiose a porte chiuse. Celebrazioni diffuse in diretta streaming dalla cappella del Giovanni XXIII. E a Belluno, passeggiata per pochi intimi lungo le strade della città. Qualcuno non ha rinunciato a fare due passi in compagnia, ma rispettando le distanze, piste ciclabili e zone pedonali, poco meno che deserta. Ed ecco in questo scatto, per chi si sta guardando da Facebook o YouTube, come si presentano le strade nel territorio bellunese. Ancora per quanto riguarda la provincia di Belluno, rimpatrio complicato. Giorgia è in viaggio verso l'Italia. Il ministro di Inca segue il suo caso. La 21enne bellunese è partita da Barcellona con un treno. Con BlaBlaCar si è diretta verso Nizza. Ed ecco qui la bellunese, Giorgia Dacanal e Nicolas, ragazzo di Saronno, partito da Valencia. I due si sono incontrati sul treno e stanno viaggiando insieme verso l'Italia. Le idee, caro Luca, ti spiego l'Italia. Ora sei un altro carcere, una notizia riferita invece ai due ragazzi che sono stati liberati dopo un anno e più di prigionia in Africa. Torni nel pieno di una pandemia in cui mancano vaccini, farmaci e posti letto. Allora resto a casa. Ma continuiamo con le notizie riferite alla provincia di Vilun. Intanto vediamo che all'interno di questa edizione del Corriere delle Alpi c'è un inserto, la guida agli interventi di sostegno, misure, consigli su risparmi, lavoro, manovra antivirus. Leggeremo sempre in questa giornata questo approfondimento del Corriere delle Alpi. Quindi rimanete in contatto con noi, cari amici radioascoltatori, amici di Facebook e YouTube. Continuiamo invece con la lettura del Corriere delle Alpi fino ad arrivare alle notizie che riguardano il Bellunese con notizie che vanno oltre l'emergenza coronavirus anziani. L'assistenza a domicilio sarà internalizzata, pronte 28 assunzioni, riduzione dei costi ma anche miglioramento del servizio. I nuovi infermieri saranno sottoposti a corsi di formazione. Comedico e Aronzo i vincoli non bloccano il collegamento. C'è un accordo per la stazione sul Colesei. Scusate, il confronto tra comune e sovrintendenza dà buoni risultati. Si può fare ma dovrà essere nascosta meglio se interrata. Il sindaco commenta così, qui siamo tutelati da tempo soprattutto grazie alla nostra gente e per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube uno scatto della Marsa che si era tenuta l'estate scorsa contro i vincoli a favore del collegamento. Iniziativa svolta nel mese di giugno. Valorizzazione del patrimonio. Articolo a firma di Alessia Forzini. Il rustico di Villa Pat sarà ristrutturato. ha aperto il bando di gara. L'obiettivo della provincia è trasformarlo con nuove funzioni nei settori turistico, ricreativo, didattico e promozionale. Feltre. Si parla sempre di sanità, psichiatria, cure primarie, oncologia, ecco e rinforzi. Tre professioniste per altrettanti reparti sottodimensionati a Santa Maria del Prato. Contratti differenti per Giulia Novello, Lucia Dallatorre e Simona Di Polito. Notizia di spalle. L'asfalto di Via Cassi è finalmente sistemato. Lavori quasi terminati. Siamo sempre nel comune di Feltre. Notizia adesso da Lamon. Raccolta porta a porta. Il calendario non muta. E ancora sovramonte. Agnese laureata con l'Ode in musicologia. Grazie a Skype. Cultura e società. Diamo uno sguardo a notizie che riguardano la provincia di Belluno. Gusto, una ricetta al giorno. Il segreto della serenità. Più tempo per creare e per assaporare. Lo chef Marco Valletta, docente e a lungo protagonista anche in TV, invita tutti nella sua cucina per regalare nuove idee. E adesso passiamo allo sport. Come sempre ricco di eventi. Ovviamente sarà meno ricco vista la situazione del coronavirus. Questa è la copertina Magda Nuova Vita. La genuina è stata l'atleta di punta del fondo per anni. Ora vive in Spagna e fa prevalentemente la mamma. L'Italia deve lavorare sui giovani. Ne vedo di vari di questo il suo pensiero. Passiamo allo schermo. Dolomiti, una cinquantina di tesserati senza l'obbligo di fare subito risultati. Il presidente Giovanni Sovilla ci interessa a creare un gruppo numeroso e soprattutto che i ragazzi si sentano gratificati. Ed ecco qui i corsisti. La foto di gruppo degli atleti della scherma Dolomiti, sto da Lizio Belonese che avvia i giovani al fioretto e alla spada. Pallavolo, il personaggio gallina la bandiera del volley belonese. Ora c'è passione intorno a questo sport. Dalle giovaniglie alla Serie B, passando per C e D, il capitano della Darold ricostruisce gli ultimi intensi anni del suo club. Sempre dalla pallavolo, Baldovin, un altro personaggio, un record, dal via alla Superlega è sempre seduto sulla panchina di Padova. Il tecnico belonese racconta un aneddoto. In una gara d'istituto, Zaroberto, che arbitrava, mi fischiò, un'invasione. Altri personaggi, né mister né presidente, per tutti semplicemente Gigi. Fresco, l'anima della Virtus Verona, è un personaggio unico, ha già quello di Patron, mira ora il record di longevità in panca. Altri personaggi, il Corriere degli Alpi quindi dedica spazio alle figure del mondo sportivo che ovviamente riguardano la provincia di Belluno. Magda, una vita da mamma con un occhio all'antico amore. La Falcadina vive oggi in una cittadina dei Pirenei Spagnoli. Il fondo in Italia è in difficoltà, ma tra i giovani vedo talenti. Ed ecco qui Magda in alcuni scatti, mentre era attiva nel mondo professionistico dello sci di fondo. Sci, Deborah, applaude. Anche sulle sci vedo l'anima forte delle donne italiane. Parliamo di Deborah. Compagnoni, la compagnoni analizza il buon momento azzurro, grande e brignone, ora l'aspetto a Cortina. Può farcela. Snowboard, Michela, terza coppa dal sapore amaro. Sono felice ma non riesco a gioire. L'azzurra è rientrata ad Alzano Lombardo, uno degli epicentri dell'infezione. Dedica il successo al nonno che sta male. Passiamo adesso alla lettura del gazzettino di Belluno. Dopo aver letto i richiami in prima pagina, addentriamoci. Ovviamente spazio come dato dal Corriere delle Alpi all'emergenza coronavirus. Le vittime ora sono tre morti, altri due ottantenni. Sabato sera a Belluno, il decesso di un paziente è ricoverato in malattie infettive. Ieri pomeriggio stessa sorte per una donna di pedavena che si trovava a Feltre. È salito a 513 il numero delle persone che si trovano in isolamento fiduciario. Dalla messa privata, il grazie del Vescovo agli angeli in ospedale. Questo è il messaggio lanciato ieri nella Santa Messa celebrata dal Vescovo di Bruno Feltre Marangoni. Parole di sostegno e vicinanza di Monsignor Marangoni a chi lavora nei reparti durante la celebrazione via Facebook. Anche il gazzettino dedica spazio alla chiusura di Luxottica che chiude per tre giorni. Non viene risparmiato neanche il polo logistico di Sedico fermato per due giorni. Intanto Fim, Fium e Will chiedono di concordare la Cassa Integrazione. Sindaci schierati in tricea al fianco dei loro cittadini. Nel capoluogo centinaia di richieste telefoniche di consigli e informazioni alla Valle Quarantena alla fine per i primi positivi. A Cortina si passeggia. Morto a 47 anni, Andrea era il figlio di Michaela Coletti. Due anni fa gli era stato diagnosticato un tumore. Notizia quindi che riguarda il comune di Longarone. L'unica consolazione è stata esserle vicino nel momento del trapasso. Anche se per una mamma non c'è dolore più straziante di vedere il proprio figlio morire, il lutto è tornato a bussare alla porta di Michaela Coletti, la presidente del Comitato Sopravvissuti del Vaionte che ieri sul suo profilo social ha annunciato la morte del figlio Andrea Zanella il 12 marzo. Aveva 47 anni e due anni fa gli era stato diagnosticato un tumore. Vodo di cadore e strade forestali a pedaggio per camion e mezzi di lavoro aggiornate dal comune. Le tariffe in vigore sui collegamenti secondari. Nella cassa dell'amministrazione entrano così ogni anno 6-7 mila euro. Notizia di spalla. Siamo a Colle Santa Lucia e dico la market chiuso, quotidiani venduti in fiducia, l'alimentare chiuso non può tenere aperto fuori il banchetto free. Acquisti da pagare inserendo il costo corrispettivo in un salvadanaio. L'importante era mantenere il servizio. Ed ecco qui per chi ci sta guardando su Facebook o YouTube il servizio ai cittadini che è stato offerto dal bar alimentare edicola chiuso che si è attrezzato con un tavolino e un salvadanaio. Sport anche all'interno del gazzettino di Belluno. Io non torno troppi rischi. La ciclista fettrina Lara Vieciri continua ad allenarsi con il suo team in Austria per proteggere la mia famiglia. Orgogliosa di me però mi do 6. Stagione finita. Elisa Vitozzi è già rientrata nella sua sappada. L'emergenza ne approfitterò per cucinare e vedere serie in tv. È stata un'annata psicologicamente e fisicamente stressante. Mi assegno la sufficienza. Ho il merito di non aver mai mollato. Ero partita per aspirare a traguardi più alti dalle lezioni negative, i migliori insegnamenti. E un'altra notizia riguarda De Pellegrini. Rifarei il portabandiere con Annalisa Minetti, l'Olimpionico di Londra, due in le 12 e le nuove regole che prevedono un uomo e una donna nel cerimoniale. Sport, noi di nuovo genitori al tempo dell'epidemia. Il secondo figlio della coppia De Narda, Dari, è nato 15 giorni fa. Emozioni e ansie dei due azzurri dell'atletica che vivono a Sedico. Passiamo adesso alla lettura delle previsioni meteo in Veneto per domani. Prima di salutarvi, stabile con cielo in prevalenza poco o parzialmente nuvoloso per sottili nubi alte. Nelle ore più fredde possibile formazione di foschie o locali nebbi in pianura sulle zone meridionali e nubi basse sulle zone peralpine pedemontane centro-occidentali in dissolvimento al mattino. Precipitazioni assenti, venti in pianura deboli, variabili con locale presenza di brezze. In montagna in prevalenza debole settentrionali. Mare poco mosso, temperature minime in aumento sui rilievi abbastanza stabili in pianura e nelle valli massime in aumento. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Noi torneremo come sempre puntuali domani mattina. In replica invece via streaming questa sera alle ore 20 e alle ore 1, ovviamente ora locale italiana. A tutti voi un buon proseguimento di giornata e mi raccomando per chi ci sta ascoltando dall'Italia, ma secondo me da tutto il mondo rimanete a casa assolutamente. Buona giornata in compagnia di Radio ABM Voce delle Dolomiti.